Ciao, sono Francesco Di Marco Datini da Prato e sono l'inventore del primo, unico sistema d'aziende del mondo. Che cos'è? È un sistema d'aziende sparse in tutta Europa e tutte governate da una ed unica, la mia azienda di Prato. A cosa serve? Serve a garantire la più grande e alta efficienza di scambio merci mai inventata fino adesso. Abbiamo anticipato i tempi, siamo innovatori, riusciamo a spedire in tutto il mondo attraverso i nostri evoluti mezzi di trasporto come carri trenati da cavalli, asini, mucche se servono, navi, galeoni a vento e arremi ma non a motore perché in tutto questo siamo anche sostenibili e non usiamo nemmeno gli aerei. Vendiamo in tutto il mondo tessuti, vesti, libri, arredamenti, padelle, tavoli, vino, alimenti, spade, armature, archi, schiavi, spezie, tutto, tutto da noi. Trovi ogni cosa dalla A alla Z. E allora ti aspettiamo, manda il curriculum a www, per mail a info, no insomma per lettera a Serlapo Mazzei il notaro di Prato. Ditta di Francesco Di Marco Datini, tutto dalla D alla I. No, non torna mica, era meglio dalla A alla Z. Dobbiamo trovare un nome diverso. Comunque, ditta di Francesco Di Marco Datini. Ah, quasi dimenticavo. Siamo Prime.